Maddalena e il mondo oltre gli ulivi, questo è il libro di Laura Marvaldi che sarà presentato sabato al frantoio di Roccanegra dall'associazione Alecca anche con la partecipazione dell'attore Simone Gandolfo. Laura, allora, Maddalena e il mondo oltre gli ulivi, che cosa racconta? Racconta la storia di una bimba che trova in un baule delle lettere e queste lettere stimolano la sua curiosità, vuole capire da dove arrivano, chi le ha scritte, perché e la storia si snoda tra la vita normale di tutti i giorni di una bambina degli anni 60 e queste magiche lettere nel baule che sono diventate per lei un modo di passare del tempo e di impegnarsi giocando. Ecco, leggendo la quarta ricopertina, Maddalena era stanca, un'intera giornata di frantoio sulle spalle ma l'olio buono iniziava a riposare nel silo sdacciaio della vecchia cantina, temperatura costante. Beh, di qui si capisce che non c'è solo il racconto di Maddalena ma c'è il racconto di un territorio, di una, come dire, storia fatta di fatica, di campagne, di olio. Sì, direi che è proprio cruciale il nocciolo del discorso. È un ragionamento. Partiamo dalla crisi dell'olivicultura, del boine, del Corriere della Sera del 1911. Ecco, è la storia di quella crisi lì ed è quella crisi che prosegue, continua, fino al 1963. Direi, dovrei forse dire ancora oggi, ma insomma, nulla di nuovo sotto al sole. Ma nel contempo di questa crisi, questa bambina cerca di capire gli avvenimenti di famiglia e si interroga, si pone dei problemi. Il pezzo dell'ultima di copertina è la chiusura del libro, la fine dove succede qualcosa di assolutamente inaspettato, che nessuno si aspetta, che nessuno pensa accadrà, perché gli eventi avvengono tranquillamente, serenamente. Anche quello è un finale gioioso, però nessuno se lo può aspettare, ecco. E noi non lo svegliamo perché bisognerà leggere Maddalena e il mondo oltre gli olivi di Laura Marvalti.